Siamo notati Gesù e Maria, fratelli e sorelle carissimi. Siamo celebrando la quinta domenica del tempo ordinario e lo splendido Vangelo di oggi, che è l'introduzione al bellissimo discorso della montagna che il Signore fa subito dopo le beatitudini, contiene un po' l'orientamento, quello che poi è tutto, quell'ante discorso che ci accompagnerà per diverse domeniche, in cui Gesù dà proprio la sintesi della sua predicazione evangelica, di che cosa è venuto a portare sulla terra, di qual è il cuore del suo messaggio. Usa anzitutto queste due immagini, che peraltro una viene ripresa e approfondita dalla prima lettura e una dalla seconda lettura. Quella del sale della terra e quella della luce del mondo. Se avete fatto attenzione alla preghiera che trovate sul foglietto che io ho letto all'inizio della Messa, già lì c'è un'indicazione, perché l'immagine del sale della terra allude alla fede. Voi sapete che nella forma antica di amministrazione del battesimo, prima di battezzare una creatura, sapete che il battesimo è il sacramento della fede per Antonomasia, perché ci viene trasmessa la fede, al bambino si dava un cristallino di sale, forse qualcuno di voi lo ricorda, da mettere nella bocca. Il sale della terra, proprio il richiamo e riferimento a questa parola che Gesù qui dice. Quindi la fede. E poi la luce del mondo, è evidente, gli uomini vedano le vostre opere buone, quindi la fede e poi la carità, che è quella che ci permette di operare mossi dall'amore di Dio e dall'amore verso il prossimo, quindi di compiere il bene. Dietro queste due immagini c'è il senso della liturgia di questa domenica. Cominciamo con questa domenica ad approfondire il discorso del sale della terra, che è introdotto dalla seconda lettura e anche qui, se avete fatto attenzione, dalla prima parte della preghiera che io ho fatto al inizio della Messa. Io ho detto, Signore, il senso è questo, che c'è il foglietto dopo l'elettrice. Tu hai dimostrato, attraverso la follia della croce, c'è proprio questo termine, che la logica di questo mondo è completamente sballata. Sale della terra, voi sapete che per capire le immagini del Vangelo dobbiamo rappresentarci bene. Il sale è una cosa importantissima. Chi di voi cucina ed è un buon cuoco, sa che può fare la più bella ricetta di questo mondo. Oh, tra parentesi, e questo ve lo raccomando in particolare, quando invitato a pranzo a me, che sono un grande amante del sale. Se una cosa è sciapa, ma può essere buona quanto ti pare, ma se è sciapa, non so che cosa pensate voi. A me, sinceramente, tanto non mi piace, proprio detto francamente. Se anche invece ci mancasse qualche condimento, qualche piccola cosa, se sta bene di sale, già quello fa il 50-60% della bontà di una cosa, no? Perché il sale è fondamentale. E guardate anche la dinamica del sale. Che cosa fa il sale? Tu lo metti e come opera? Si scioglie e dà sapore a tutto, quindi scompare, non si vede più, però rende tutto buono. Voi sapete che con il sale si fanno anche altre due cose, lo sapete? Lo sapete sicuramente. Quando si ghiacciano le strade, che ci si mette? Sopra, per non fare una sbatte contro il muro? Il sale, il sale impedisce il ghiaccio, d'accordo? Adesso lo vedremo solo. E poi, se devi conservare un alimento, che ce fai? Tu lo metti? Le donne alzino la mano se sbaglio, eh? Si mette sotto sale. Sale serve nella conservazione degli alimenti, quindi dà sapore, impedisce il congelamento e preserva dalla corruzione. Tanta roba. Gesù dice, voi miei discepoli, attenzione, siete il sale della terra. Quindi avete questa funzione nel mondo. Quale? Portare sapore. Capite? La sapienza, dicevano i classici, sapienza, la viene dal latino, scusate se faccio un pochino di latino, ma tanto traduco, eh? Sapienza, in latino è sapida scienzia, cioè scienza che ha sapore. Cioè la capacità di comprendere il senso profondo delle cose. Cioè, i cristiani sono il sale della terra perché hanno chiaro il senso profondo delle cose. E lo portano al mondo. E sapete dov'è che il senso delle cose si fa chiaro al cento per cento? Dice San Paolo, eh? Lo dico io. Io vi ho parlato di Cristo Crucifisso perché tutti i discorsi che vi sto facendo non fossero fondati sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio, sulla sapienza che rifugge dalla croce. Però, come prima battuta, tutto quello che è sapienza divina noi lo possiamo capire guardando con attenzione Cristo Crucifisso. E adesso andiamo subito a scendere nel concreto perché, sapete, l'omiglia diventa sempre più bella e ci portiamo qualcosa a casa quando si fanno un pochino di esempi. Per esempio, perché moriamo? Perché, sapete, quando uno è sapiente, il sapiente sa rispondere ai perché. E noi sappiamo rispondere ai perché, se siamo sapienti, se siamo buoni cristiani. Perché moriamo? Vogliamo fare anche un'altra cosa. Guardiamo il Crucifisso. Perché Gesù Cristo è morto in Cruci? Ce lo siamo chiesti? Perché noi seguiamo Cristo Crucifisso. Noi stiamo in chiesa qui, eh? Stiamo celebrando la Messa. La Messa è la rinnovazione. Sapete che sull'altare c'è sempre il Crucifisso, dietro o davanti. È meglio adesso che siete davanti così lo vedete sia voi che stare di là che io sono di qua. Perché sull'altare si rinnova il mistero della Croce. Chi è che è morto in Cruci? Gesù Cristo. E Gesù Cristo è Dio? Sì. E Dio va a morire in Cruci? Mi sembra una cosa senzata a voi che Dio va a morire in Cruci. Perché San Paolo e la preghiera introduttore ci ha detto la follia della Croce. Ma non è roba da matti, scusate, che uno onnipotente che ha fatto l'universo vada ad affrontare la morte più oltraggiosa, più umiliante, più dolorosa e peggiore che possa esistere. Capite il senso? Era matto nostro Signore? Guardate che questo significa, eh? O era sabio e se evidentemente non era matto nostro Signore e ha fatto questa cosa, che cosa ci sta dicendo? Che cosa ci sta rivelando? Che cos'è la Croce? Qual è la sapienza che sta nascosta dietro? La Croce? Tutte quante queste domande, nella misura in cui noi, come dire, siamo buoni cristiani, abbiamo la fede, sappiamo dargli una risposta. Voi sapete perché oggi ci sono, come si dice, non voi chiaramente che siete qui, ma pochi praticanti, cosiddetti praticanti. Perché provate a chiedere a qualcuno in giro che è battezzato, ma perché dobbiamo morire? Ma dopo la morte che ci sta? Ma tu che ci stai a fare? Che stiamo a fare con questo mondo? Che ci stiamo a fare con questo mondo? Scusate, qualcuno ve lo sape. Che stiamo a fare? Ci stiamo arrabbattati, abbiamo lavorato, abbiamo soffritto, eccetera, eccetera. Tanto c'è il conto alla rovescia, c'è la sola morte, dopo la morte che c'è? Un metodo di terra? Oppure un po' di cemento armato dentro un lobo e poi basta, è finito, che succede? Che non succede? Tutte queste domande, Gesù una risposta ce l'ha data e noi dovremmo essere non soltanto i primi a sapere la risposta, ma i primi a crederci. Allora, in due parole perché l'omea già volge verso la fine. Allora, chiediamoci anzitutto, prima che io continuino, io saprei rispondere a queste domande dentro il mio cuore. Cioè, il mio essere cristiano, la mia fede è qualificata, sono radicato, credo davvero nelle cose che faccio. Cosa penso io dinanzi a Gesù crocifisso? Aspettate quella che adesso poi ve la do la risposta, prima che finiamo. Ma io, se mi metto davanti a Gesù crocifisso, che penso? Guardalo bene. Sta sulla croce. Noi crediamo che quello è Dio, quello che mi ha creato, quello che fa tutto l'universo. Il padrone assoluto, poteva scendere, secondo voi, Gesù dalla croce oppure no? Poteva fulminarli tutti quelli che stavano sotto o no? Attenzione a come si risponde a questa domanda, eh? Perché se non poteva fulminarli, vuol dire che non erano impotenti, quindi non erano a Dio. Se poteva fulminarli e non l'ha fatto, vuol dire che non ha voluto farlo. E quindi vuol dire che ha proprio voluto stare in croce. Lui, capite? Allora, la risposta alla follia della croce è questa, guardate. La croce, sapete che cos'è? La croce è un inceneritore. Avete visto gli inceneritori? Oggi è un grande problema sociale, no? I rifiuti a Roma, in Campania, devono fare gli inceneritori super perché se no siamo collassati con tutta questa montagna di fango che ci viene addosso. E' vero. Qual è il fango di cui il mondo è ammorbato? I rifiuti organici, la plastica, o qualche altra cosa? Noi cristiani crediamo questa cosa, che ciò che ammorba il mondo è solo un problema, uno solo. L'abbiamo imparato a catechismo. Si chiama peccato, il male che noi facciamo. Questo mare, una volta che esce fuori di noi, è come se fosse una montagna di netame, di rifiuti. Qualcuno deve prendersi la briga di portarlo dentro qualche inceneritore e distruggerlo, in modo tale che non siamo più ammorbati dalla puzza, che non stiamo più in un mondo dove non si canta più. E sapete cos'è che fa questo? La croce. Gesù sulla croce, cosa ha fatto? Ha subito tutte le ingiustizie possibili e immaginabili, andando a finire lì. Il che è una sintesi di ciò che è il peccato del mondo. Cosa ha fatto? Anziché ripellare, ha detto, vengano tutti su di me, io accetto di morire sotto il loro peso, offro tutto al Padre, con amore e per amore, in modo tale che i miei fratelli siano liberati da tutta questa schifezza. E l'unica condizione per essere liberati è che tu, dici al Signore, io ci credo, libera. Ma se questo è vero per la croce Sua, questo è vero anche per le nostre croci. Perché sapete perché noi soffriamo? Perché un po' di contributo, diciamo così, perdonatemi sempre la metafora, allo smaltimento dei rifiuti, diciamo che il 90% l'ha fatto nostro Signore e il 10% ce l'ha lasciato a noi. Quindi le nostre piccole croci, perché in confronto alla sua sono tutte piccole, le prove della vita, le sofferenze, sono il nostro contributo alla distruzione del male nel mondo. Non c'è altro sistema. Per questo che Gesù, potendo scendere dalla croce, non è sceso, i Santi, che erano persone comunque intelligenti, si sono chiesti, ma perché Gesù ha fatto una cosa del genere? Ma non c'era un altro modo, un po' meno doloroso, un po' meno cruento, un po' meno terribile? Allora, se io credo che quello è Dio e non ha scelto un altro modo, cosa significa? Che quantomeno quello è il modo migliore. Forse che è l'unico, questo non lo possiamo affermare con certezza, ma sicuramente quello è il modo migliore. Allora, ecco la sapienza. Cosa fa la logica del mondo dinanzi alla sofferenza? Cosa facciamo? Facciamo pure noi, perché noi siamo tutti quanti più o meno impastati. Scappiamo. La fuggi è la sofferenza. Cosa fa uno che ha la sapienza che è illuminato? Certamente non è che si diverte quando soffre. Soffre, per carità, lo sta. Ma capisce, dice, accetto questa sofferenza, offro questa sofferenza in unione con le sofferenze di Cristo, perché attraverso questa sofferenza un po' di male che ho fatto e un po' di male che sta intorno a me perderà forza, perderà potere. Staremo tutti un po' meglio. Ecco, guardate che sarebbe da fare un'ommelia lunga altre quattro ore. Io evidentemente mi fermo qui. Ecco, le altre cose... Spero che lo Spirito Santo vi aiuti a decodificare. Però capite quanto è grande la sapienza che il Signore ci ha lasciato e quanto, piano piano, certamente avrendo il cuore, approfondendo anche tante cose, noi possiamo crescere in essa e avere poi uno stile di vita che è completamente differente da quello di tanti nostri fratelli e sorelle che non hanno la luce della sapienza e non hanno queste grandi verità che danno questa grande speranza e questo diverso modo di vedere la vita e il mondo. Siamo notati Gesù e Maria.